Buonasera, buonasera e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Bergamo Scienza, del pre-festival di Bergamo Scienza. Quest'oggi siamo in compagnia di Marco Ferrari, biologo evoluzionista e giornalista scientifico, che in linea con il talk che c'è stato la scorsa settimana sul sesso, si parlerà di sesso, però non nella nostra specie, ma per quanto riguarda gli altri animali. Quindi, anzitutto, ciao Marco e benvenuto, grazie mille per farci compagnia. Aspetta Marco, non sei attivato a livello di microbiota? Vado, sono muto, ero muto. Ora invece ti sentiamo. Grazie a tutti, grazie dell'invito che è stato particolarmente stimolante, devo dire. Ho studiato un po', cosa che non mi capita ormai da circa 40 anni, ma insomma, sono fuori in campagna, come vedete, dalla mia location e ci sono delle bellissime upupe, devo dire, qui che stanno svolzando intorno. Comunque, va bene, ok. Siamo qui per parlare di sesso, ma cominci lei, dottore. Allora, anzitutto, saluto e ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo, naturalmente, in questa calura estiva. Allora, ovviamente, parlando di sesso e di animali, si può dire di tutto e di più. Io però, come appunto ci stiamo accordati prima, partirei da una domanda fondamentale, cioè il sesso, va bene, ok, ma perché? Che senso ha il sesso? È talmente faticoso, è così difficile? Non lo so, come mai, Marco? È una contraddizione, diciamolo chiaramente, è una contraddizione. Lasciamo perdere la nostra specie, che è un po' particolare, perché c'è quella cosa brutta cosa che si chiama cultura, che influisce, che complessifica le cose, per non dire che è in casina. Però, allora, proviamo a fare un po' di conti, lei mi aiuti, dottore, che non sono bravo in matematica. Se uno, siamo in due, se c'è una signora animale, anche una signora pianta, non credo sia una cosa molto diversa, che decide di riprodursi, fa un tizio o una tizia, anzi meglio una tizia, uguale a se stessa. Punto e basta. Qual è la percentuale di geni che questa signora animale o signora pianta ha trasmesso alle generazioni successive? Il scopo assoluto di ogni tipo di comportamento è trasmettere i geni alle generazioni successive. Se io trasmetto il 100% dei miei geni, ho raggiunto il nirvana. Giusto? Lei mi correga se sbaglio. Quindi, allora, il sesso, cioè il fatto di condividere i geni, in particolare i cromosomi, ovviamente, i geni con un altro o un'altra, è una rottura, è un compromesso che non va assolutamente bene. Perché quando io ho un animale o una pianta, condividiamo i geni con l'altro, il partner, il 50% dei nostri geni vengono buttati via. Quindi, voglio dire, è un'azienda che ha il 50% di perdita, è in perdita, chiude, dovrebbe chiudere. Questa è la domanda fondamentale che sono posti biologi, praticamente da quando ha cominciato a ragionare qualcuno sull'argomento, cioè Darwin nel 1971. Perché il sesso? Allora, le risposte sono millanta. Diciamo che si è cominciato a dire, beh, in fondo però c'è un rimescolamento dei geni. Cosa vuol dire? Vuol dire che io, ripeto sempre, il signor animale o la signora pianta, si mettono insieme a qualcun altro, le combinazioni dei loro geni, il 50% dell'una, il 50% dell'altra. Dottore, lei mi fermi se dico qualcosa che è A, poco comprensibile, B, sbagliato. Perché essendo io un giornalista è molto probabile che sia più sullo sbagliato che sul poco comprensibile. No, beh, io non è che sono tanto, voglio dire, non è che fornisca chissà quale garanzia, però Bergamo Scienza si sono fidati, quindi probabilmente sbagliato. Sì, va bene. Allora, cosa stavamo dicendo? Stavamo dicendo che è una combinazione di geni che potrebbe portare a un qualcosa di positivo. Qualcosa di positivo nel senso che se io ho un gene che mi dà la possibilità di vivere al freddo e la signora animale mi dà un gene che ha la possibilità di vivere al caldo, può darsi che la combinazione di questi due geni mi dia uno status, un tratto, tecnicamente si chiama un tratto, un adattamento migliore di quanto non possa essere se la signora animale o la signora pianta ha continuato soltanto con il suo tipo di geni. Chiaro fin qua? Sì, è chiaro, ma fino a un certo punto. È chiaro fino a un certo punto perché non si vede perché una volta che un animale, un animale, una stirpe diciamo, quello che si chiama un clone, una femmina, si è adattata a quell'ambiente, non vedo perché debba buttare via il 50% dei geni al copiandoci con un maschio. Quindi se l'ambiente è relativamente stabile, stiamo lì, non muoviamoci. Ic manebimus optime, come dicono i latini. L'altro problema grosso è che, ok, sì, ci sono queste combinazioni di geni, eccetera, ma la maggioranza, la stragrande maggioranza delle specie animali e vegetali e non solo, se volete poi parliamo anche un pochettino di batteri perché anche loro hanno una loro vita sociale, eccetera, si scambiano parte del patrimonio genetico attraverso il sesso, attraverso l'accoppiamento. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che un tratto, un adattamento, un comportamento così diffuso significa che ha qualcosa di positivo, ci deve essere un qualche cosa che ha portato alla diffusione così estrema di questo comportamento, diciamo dello scambio dei geni, sesso come scambio dei geni. Sono notissimi gli unici animali, no, non è vero, ce ne sono altri, ma insomma i più noti quelli che vivono senza sesso da più tempo sono dei piccolissimi, tecnicamente invertebrati, ma insomma sono dei piccoli animali che vivono anche negli stagni, che si chiamano rotiferi. Un piccolo gruppo di pesti rotiferi che ha il peculiare nome di rotiferi ibedelloidei vive da circa 150 milioni di anni, 100 milioni di anni, cioè un numero di anni assolutamente enorme, senza sesso, senza scambio di geni. Cioè le femmine di rotiferi producono altre femmine di rotiferi e così vanno avanti tranquillamente. Ma il fatto che sia un'eccezione è un'eccezione che conferma la regola, cioè che tutti gli altri animali e piatte hanno bisogno del sesso. Potrebbe anche essere una cosa, come si potrebbe dire, una specie di vicolo cieco, questa è un'idea piuttosto balzana secondo me, ma insomma la biologia credo sia abbastanza ricca di idee balzane da poter parlare anche di questo. Potrebbe anche essere stato un piccolo cieco perché se miliardi di anni fa, quando è cominciato, circa paio di miliardi di anni fa, quando è cominciato lo scambio dei geni, si è arrivati in certe condizioni a quella soluzione, poi è difficilissimo tornare indietro, l'evoluzione è molto molto difficile che torni indietro. Quindi diciamo che si è andati in quella direzione e tutta poi la successiva esplosione di specie, sia animali che vegetali, non ha potuto fare a meno che andare in quella direzione, anche se il sesso probabilmente potrebbe anche non essere assolutamente indispensabile. Questa, ripeto, è un'idea, la butto lì. Perché dico che la biologia è piena di idee balzane? Perché se si va a vedere, al di là di quello che dicevo prima, le combinazioni, quali sono le teorie che dicono il sesso ha una funzione? Sono infinite, sono veramente un'enormità. Ce ne sono alcune che sono anche matematicamente interessanti, perché dicono che va bene per queste specie animali avere uno scambio di geni e quindi una ricombinazione. Dieci anni dopo arrivano altri matematici, biologi, matematici che dicono no, le cose non stanno così. Quindi se vuoi andiamo avanti a esaminare tutta questa cosa. Mi sembra di andare un po' troppo sul teorico, forse... Io penso che abbiano avuto il loro exploit di fama ai rotiferi, che sono un gruppo di animali che di norma si conosce solo per chi fa magari determinati corsi di studi, come possano essere per esempio biologia o scienze naturali. Invece sono animali mega interessanti appunto, quindi sono già contento che siano sortiti fuori ai rotiferi, perché purtroppo non se ne parla mai. Sono degli animalini simpatici e di rado escono fuori dai corsi di studio dedicati, quindi sono contento. Quindi posso vantarmi di aver parlato di rotiferi a Bergamo Scienze? Assolutamente. Penso sei il primo essere umano che abbia mai parlato di rotiferi a Bergamo Scienze, questo merita tutta una sua gloriosità di un certo tipo. Ad ogni modo appunto, qui molto spesso c'è il fatto che si cerca sempre di trovare sempre un'utilità, una spiegazione che ci venga in qualche modo logica ad un qualcosa che a primo acchito non ci appare così logico e che magari a volte neanche lo è. Però vabbè, comunque questi sono altri discorsi. Il fatto è che, va bene, noi mettiamo che abbiamo trovato la spiegazione tutta per Benino, del sesso, eccetera. Cioè è giusto. Ti interrompo, poi però una me la fai dire, che è quella che mi piace di più. Dopo, 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 dopo. Ok. Vadi, vadi. No, il discorso è un po' questo, no? Come dire, qualcuno potrebbe essere contento perché dice, oh via, abbiamo trovato la spiegazione, il sesso funziona così, perché è vantaggioso che i geni si rimescolino, perché potenzialmente possono sortire fuori cose interessanti, eccetera. Ok. Facciamo finta che ci vada bene così, acriticamente, no? Però c'è un altro discorso. Noi abbiamo fatto, come dire, il passo più lungo della gamba, perché noi abbiamo già, come dire, messo in conto che, come dire, il rapporto sessuale è avvenuto, gli animali si sono trovati, si sono accoppiati con successo, si sono deposte le uova o si sono rimasti incinti a seconda del gruppo di animali, quel che è. I figli sono nati tutto quanto, però in realtà noi, cioè, ignoriamo, per così dire, tutto quello che avviene prima del sesso. E lì, insomma, c'è un altro, a proposito di paradossi, e prima ha citato Darwin, ovviamente, e ritornerà fuori un'altra volta, c'è tutto il discorso, ma siamo sicuri che il sesso così vantaggioso da un punto di vista evolutivo sia effettivamente vantaggioso per la sopravvivenza di determinati animali? È anche vero il punto. Allora, c'è anche, è un'aggiunta al discorso iniziale che ho fatto, al discorso che avevo fatto all'inizio, cioè, il grosso handicap è che io butto via il 50% dei miei geni, e non è corretto, non è giusto, insomma, cioè l'evoluzione ti guarda e dici, ah, ah, non devi farlo. Il fatto è che poi c'è tutto quello che hai detto tu, cioè, nella maggior parte dei casi, specialmente negli animali, tra virgolette, più complessi che vengono definiti superiori, ma mi raccomando, non chiamiamoli superiori perché gli altri si offendono, il maschio, nella maggior parte dei casi, il maschio deve inseguire la femmina, deve convincerla, deve trovarla, deve a volte difendere le sue, quelle che vengono definite le risorse, risorse, diciamo, per l'accoppiamento da altri maschi che vogliono, cioè, è uno spreco energetico, pensate soltanto, facciamo un paio di esempi di animali abbastanza conosciuti, il cervo, il cervo ha delle cose che tutti chiamano corna, ma non sono corna, per favore, ancora una volta non sono corna, sono palchi, le corna sono cose fatte di corno, cioè ce li hanno i bovidi, non ce li hanno i cervidi, vabbè comunque, a parte quello, i cervi hanno tutti gli anni, si fanno crescere qualche chiletto di roba in testa, perché in questo modo dimostrano agli altri maschi di essere più forti, alla fine della stagione questo qualche chiletto di roba cade, cioè, credo che uno spreco maggiore di quello non possa esistere, ma succede per i cervi, succede per le renne, per i caprioli, per i alci, eccetera. Gli elefanti di mare, ad esempio, che sono un'altra specie molto particolare, negli elefanti di mare il maschio è grosso 5, 6, 10 volte una femmina, perché? Perché la volontà, tra virgolette, no volontà in questo caso verrei esautorato dal novero dei giornalisti che si occupano di natura. Insomma, l'evoluzione fa sì che il maschio debba cercare di difendere le femmine dalle tentativi degli altri maschi e nel corso del tempo dell'evoluzione diventa sempre più grosso, sempre più grosso, sempre più grosso ed è ancora una volta uno spreco in mani di risorse, perché questa dimensione deve essere mantenuta. Ma pensate a tanti altri animali, i rinuceronti, le mosche che hanno degli occhi su dei piccoli stedi che sono lunghi quasi come loro, tutto perché i maschi devono combattere per difendere, tra virgolette, le loro risorse delle femmine. È un grossissimo spreco. Non solo, ma andando in giro a cercare alla femmina, ti sottoponi alla possibilità di essere catturato dai predatori. Non solo, i piccoli, le uova in particolare, devi difenderli come le femmine incinte dei mammifere, sono più pesanti, più difficili ad andare in giro. C'è tutta una serie di difficoltà che, tornando le cose che facevamo prima, maledizione, se ci sono, significa che qualcosa servono. Oppure, come dici tu, ok, mi dice che è troppo alta, chi se ne frega. Oppure, come dici tu, può anche darsi che non servono, cioè che sono lì perché sono lì. Ho capito male il discorso che facevi. Sì, no, nel senso, questo può succedere, magari, che noi, siccome abbiamo una nostra impostazione mentale e umana, pensiamo sempre che tutto quel che c'è è per il bene, cioè se è lì è perché assolutamente deve avere uno scopo, perché ci piace ragionare così. A volte può succedere che questo in realtà non era specificatamente legato al discorso del sesso, ma può capitare che delle cose si accumulino e restano lì perché magari, sì, non fanno bene, però magari non fanno neanche male, quindi a quel punto magari ti costa di più toglierle e quindi le lascio lì, tanto non danno a nessuno, ecco il discorso un po' generale. Esatto, c'è anche quello, c'è anche quello. Comunque, tornando un attimo a un filo di, se lei dottore mi lascia trenta secondi di teoria, poi la smetto. Ma anche un minuto e mezzo, ma quanto vuole. Io sono il moderatore, ma te sei il protagonista, Marco, devi sdarti oggi. No, lo so, però essendo una, tra virgolette, uno spettacolo, tra virgolette, insomma, la Bergamo Scienza ha anche la volontà di, credo, di attirare le persone verso argomenti che tutti ritengono interessanti. Se io divento noioso e teorico, la gente spegne YouTube, spegne Twitch, spegne eccetera eccetera. Spero di non esserlo troppo, mettiamola così. Allora, una delle teorie più interessanti, una delle idee più interessanti che portano a dire il sesso a qualcosa serve, è questa qua. Quando c'è l'accoppiamento, diciamo prima c'è anche una ricombinazione dei geni. Quindi nuove combinazioni geniche che hanno lo scopo, secondo alcuni teorici, di riuscire a dare al corpo dei figli e delle nuove generazioni la possibilità di combattere meglio i nemici più importanti, che non sono per la gazzella il leone o per, non lo so, per il passerotto, il falco pellegrino. Sono i parassiti. Che i parassiti siano delle spinte evolutive molto importanti è una cosa da tenere presente. Per parassiti non si intende soltanto le tenie o i parassiti esterni, tipo le sanguissughe, ma soprattutto batteri e virus. Che cos'hanno i batteri e i virus rispetto a noi? Hanno una velocità di riproduzione e lo stiamo vedendo adesso. Credo che non ci sia neanche bisogno di spiegarlo. Stiamo vedendo adesso la velocità di riproduzione e quindi la velocità di creazione di nuove mutazioni, quello che non so per che ragione vengono definite varianti nel caso del virus. Però mutazioni sono, credo, non credo siano qualcosa di diverso. La velocità di creazione di nuove mutazioni nei parassiti è estremamente più elevata rispetto a quello degli animali, che hanno una generazione di sei mesi, due anni, vent'anni come l'uomo. Quindi se io mi ricombino tutti i geni possibili e immaginabili durante l'accoppiamento, durante il sesso, è possibile che quello che ne esce fuori riesca a combattere meglio i parassiti. Quindi c'è una specie di inseguimento. I parassiti cercano di superare con le mutazioni, di superare i parassitati, diciamo le vittime, le vittime stesse cercano di superare con il sesso, cercano di superare le mutazioni dei parassiti. Questa è una teoria, diciamo, una delle più accolte. Non tutti sono d'accordo ancora una volta, cioè, scusate, in biologia molto spesso, a parte la teoria generale, la teoria dell'evoluzione per selezione naturale o per selezione sessuale, eccetera, tutte queste altre teorie accessorie sono accolte ma sono criticate. Non c'è mai nessuno, non c'è un consenso generale, totale, globale. Questa dei parassiti è una delle tante teorie che ha un buon consenso, mettiamola così. Ma torniamo a noi, ma torniamo agli esempi, parliamo di altro. Scusate ancora una volta la... No, ci mancherebbe. No, poi appunto c'è anche il discorso che appunto i maschi si danno così tanto disturbo per, come dire, per piacere alle signorine e uno anche lì giustamente si chiede, ma come mai il maschio si dà così tanto? Perché cosa deve dimostrare? Al di là ovviamente da avere dei buoni geni, ma perché è il maschio che deve dimostrare e non la femmina? Anche questa è una roba abbastanza, no? Esatto. Allora, primo, ci sono delle eccezioni anche qua, perché a me piace moltissimo parlare più che altro delle eccezioni, perché ci sono ad esempio alcuni uccelli in cui è la femmina che deve dimostrare al maschio di essere male. Alcuni si chiamano palaropi, ma poi ci sono anche dei giaccane, eccetera, eccetera. Però queste ancora una volta sono eccezioni. La biologia è una scienza di eccezioni, fondamentalmente. Comunque, a parte quello. Perché i maschi hanno questo impulso, ancora una volta, una parola che non dovrebbe essere usata. Apro una parentesi, riuscire a parlare in maniera divulgativa, di evoluzione, senza usare delle parole improprie, è una delle imprese più grandi dell'umanità e io non ce la farò mai e poi mai. Comunque, a parte quello. I maschi sono degli spreconi, fondamentalmente. I maschi hanno, al di là di quello che fanno i cervi o gli elefanti di mare. I maschi hanno una disposizione, diciamo così, di cellule sessuali che le femmine non hanno. Perché una femmina, di qualsiasi animale, dai più piccoli ai più grandi, dai mammiferi agli insetti, eccetera, produce un certo numero di uova, che sono limitate, qualche centinaio, qualche migliaia, diciamo, nel corso della vita. Il maschio può produrre milioni e milioni di spermatazzoli e un maschio solo, un maschio ad esempio di cervo, può accoppiarsi con decine e decine di femmine della stessa specie, di cervo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le femmine sono limitate e hanno la necessità assoluta di essere, come diceva una ministra, una delle nostre ministre qualche anno fa, le femmine devono essere ciusi, devono stare attenti alla scelta del maschio. Perché la loro, tra virgolette, spreco energetico, l'utilizzo della loro energia per, dopo l'accoppiamento, per lo sviluppo delle uova, per la gravidanza nel caso dei mammiferi, per l'allevamento delle uova nel caso degli uccelli, eccetera, insomma tutto lo sforzo che fanno è molto, ma molto superiore a quello che fanno i maschi. Se la femmine ha a disposizione 100 unità di energia, il maschio ha a disposizione un'enormità di più, quindi la femmina deve stare attenta, deve allocare le sue risorse energetiche in maniera estremamente attenta. Infatti la femmina è la femmina che sceglie i maschi, è sempre, ancora una volta con le dovute eccezioni. Una delle caratteristiche del sesso è proprio la scelta femminile, è una delle cose su cui insisteva Darwin nel libro del 1871 e che è stato poi stigmatizzato perché al tempo dire nel 1871, dire sono le femmine che scelgono i maschi, non andava molto bene. La società vittoriana non era particolarmente d'accordo su una cosa di questo genere. Quindi, dica. No, no, era giusto proprio il discorso, questo è, lo dico appunto per chi ci segue, quando sentite parlare di selezione sessuale, è proprio questo, cioè vengono selezionati caratteri che rendono non necessariamente più adatto un individuo a sopravvivere, ma quanto più adatto a riprodursi, a convincere la femmina. Ed è questo il grosso distigo, perché Marco, quando ha spiegato il discorso dei palchi dei cervidi, l'ha detto, ma quanto dispendio energetico c'è? Addirittura ci sono dei cervidi e il calcio per costruire il palco lo prendono dalle loro ossa e quindi si causano delle forme di osteoporosi stagionale che magari li rendono più soggetti a rompersi un osso, magari negli scontri con gli altri maschi, che non sono così comuni, ma avvengono. Quindi capite quanto sia anche rischioso per il maschio, come dire, selezionare determinate cose e non sono cose che sono selezionate, tra virgolette, per il bene, perché sono più adatte a farlo sopravvivere. No, il contrario, magari li fanno peggio, però se con quelle cose sei più bravo a convincere le femmine, allora magari passano lo stesso alle generazioni successive, perché ti produce di più. Anche di più di chi magari ha un palchino schifoso e ha meno problemi a livello osseo, ha più energia per scappare dal predatore, eccetera. Che poi in realtà se ce l'ha più piccolo è anche un indice di salute, quindi non necessariamente averlo più piccolo vuol dire… Eh, attenzione, esatto. Attenzione, c'è anche questo intrigo. Parliamo ad esempio del pavone, uno degli esempi classici. La coda del pavone, che ancora una volta non è la coda, maledizione. Niente è quello che è. Questa puntata potrebbe essere intitolata niente è quello che è. Comunque, non importa. Non è la coda, sono delle altre penne, non sono proprio le maniere della coda. Comunque, è un qualcosa di assolutamente ingombrante, vistoso, pesante, difficile da costruire, perché ci vuole un sacco di energia, un sacco di metabolismo per costruire quella roba lì. Poi è molto visibile, perché ovviamente quando il pavone fa la coda, fa la ruota, è visibile, è molto visibile da lontano. Ma, se questo pavone affascina, tra virgolette, le femmine con la sua coda, con gli occhi della coda, in particolare, con gli occhi di quando fa la ruota, questo pavone riuscirà ad accoppiarsi. Altri pavoni che dicono, che fanno il ragionamento opposto, dicono, ma forse in effetti, così mi, 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 vuol dire, sono più visibile, le tigre mi mangiano, fondamentalmente, allora riescono a sopravvivere, ma non riescono ad accoppiarsi. Il contrasto, da alcuni non è visto, ancora una volta, non tutti sono d'accordo su questa posizione, alcuni vedono la selezione sessuale, quella che hai raccontato tu come, appunto, proposta da darvi, alcuni vedono la selezione sessuale come una dentellata della selezione naturale. Si sente l'ambulanza, la facciamo aspettare? Se altro? Ok, già non si sente più, oddio. No, ok, vabbè, niente. È passata un'ambulanza, spero non sia niente di… visto che siamo in provincia di Brescia, non vorrei che cominciasse qualcosa. Comunque, niente, scusate. Allora, la sopravvivenza e la riproduzione sono due spinte che, ripeto ancora, secondo alcuni sono differenti e quindi si dà che ci sia qualcuno che sopravvive poco. Un pavone potrebbe sopravvivere anche soltanto, che ne so, a due anni, ma se in questi due anni riesce a affascinare abbastanza femminile e produrre, faccio un esempio, cento piccoli, i suoi geni andranno nelle generazioni successive, molto di più se un pavone riesce a sopravvivere per 5-6 anni e in questi 5-6 anni i piccoli che riesce a produrre grazie alle femmine sono 50. Allora, è una cosa apparentemente in contraddizione con la logica, fondamentalmente. Cioè, come io sopravvivo meno e faccio più piccoli. E così, la selezione sessuale ci dice esattamente questo. Ci dice che alcuni caratteri dei maschi, guardate ad esempio tutti gli uccelli del paradiso. Gli uccelli del paradiso sono una famiglia di passeriformi, fra l'altro, cioè sono parenti dei passerotti e degli storni e dei merdi, che hanno, ognuno di essi ha una livrea assolutamente spettacolare, che spesso e volentieri viene dimostrata alle femmine in momenti particolari, durante l'accoppiamento, durante il corteggiamento, eccetera, in momenti particolari in cui il maschio ha dovuto sprecare mesi e mesi di energia per farsi una specie di teatro dove farsi vedere dalle femmine, altre scelte avrebbero potuto essere, ok, io non mi doto di, come si potrebbe dire, di libri così spettacolari, ma cerco di sopravvivere di più, ma alla fine vince chi fa più figli, non c'è niente da fare. La selezione sessuale mi porta a fare più figli, la selezione naturale mi porta a sopravvivere di più. La cosa carina, la cosa interessante è che spesso e volentieri queste due cose sono in contrasto, cioè è ovvio che il povone non può avere una coda lunga 30 metri, perché alla fine morirebbe davvero per ragioni di metabolismo, per ragioni di difficoltà di costruzione, per ragioni di predazione, eccetera. Quindi c'è un limite alla dimostrazione di mascolinità della selezione sessuale, c'è un limite dato dalla selezione naturale. Allora, questa frase qua è un po' critica per i teorici dell'evoluzione. Però stiamo facendo divulgazione, mi sbaglio, stiamo facendo divulgazione e non... No, no, non ci mancherebbe, non ci mancherebbe altro. Che poi dall'altro c'è il discorso che questi segnali sono dei segnali definiti onesti, perché un maschio che non è capace di produrli non li fa, capito? Quindi c'è anche questo discorso. Ma comunque c'è anche il fatto che qualche maschio comunque prova a ingannare della serie. Se può, va bene tutto essere pronti a affrontare la vita con tutto questo popò di roba inutile addosso, con la prospettiva che però se ce l'ho fa più figli, però diciamo che se posso in qualche modo, come dire, fregare chi ho davanti, ma come dire, l'occasione fa l'uomo ladro e non solo l'uomo, vale un po' per... L'occasione fa il pesce ladro, ad esempio, perché alcuni pesci, ma non soltanto, c'è anche negli anfibi, io mi ricordo di pesci e di anfibi, però potresti essere anche da qualche altra parte. Mentre il maschio dominante, quello grosso, dotato di territorio più potente, energeticamente più dotato, difende il territorio all'interno di quale arrivano le femmine per riprodursi, perché dicono quello è il mio lui, perché se lui è riuscito a diventare così grosso, ad avere un territorio così importante, ad avere magari colori così evidenti, qui torniamo a cosa di prima, colori così evidenti da riuscire a sfuggire ai predatori e a difendersi dai parassiti, allora i suoi geni vanno bene, quindi i miei figli potrebbero usufruirli. Allora le femmine entrano in questo territorio. Ci sono alcuni maschi che non riescono nella loro crescita ad avere questa robustezza, non avere queste dimensioni e questa possibilità di difendere il territorio. Allora assumono una livrea da femmine, entrano nel territorio del maschio mentre ci sono le femmine e sorrettiziamente, mi piace questa parola, sorrettiziamente... C'è anche io la prima persona che ha usato sorrettiziamente a Bergamo Scienze, quindi sono due primati in una sola diretta. C'è, diciamo, check, rotiferi, bellodei e sorrettiziamente. Riescono di accoppiarsi con le femmine. Cosa significa questo? Significa che la possibilità di accoppiamento non è data da una sola strategia, ma da, in questo caso da due, ma magari ce ne sono tre, ma magari ce ne sono quattro. E secondo le condizioni ambientali, i maschi, nella maggior parte dei casi, ma insomma i maschi, assumono livree, comportamenti e altro che portano a strategie differenti rispetto a una strategia, diciamo, classica. Un esempio, credo ci siano alcuni anfibi, alcuni rospi, in cui ci sono i maschi più piccoli e più simili alle femmine che non vengono scacciati. Io mi ricordo di un pesce americano che si chiama le pomis, un persico sole che crea dei territori in cui arrivano le femmine e arrivano anche i maschi più piccoli simili come livree alle femmine e che si accoppiano, ma anche in molti pesci marini succede una cosa di questo genere. Quindi, non tutto è quello che sembra, ancora una volta, come stavamo dicendo, praticamente dall'inizio. Eh, anche le seppie, ad esempio, addirittura, non mi ricordo in che specie, però, particolarmente gli esemplari maschi particolarmente stealth riescono, siccome i ceppalopodi hanno un controllo sul proprio colore pazzesco, a mettere metà del corpo, quello rivolto verso il maschio dominante, come una femmina, e metà del corpo, quello rivolto verso la femmina, come un maschio che la vuole attrarre. Quindi, addirittura, sono doppio gioisti pazzeschi. Come ci diceva Moreno, anche tra i commenti, diceva alcuni stercorari dove il maschio minor trova una seconda entrata per raggiungere la femmina, oltre a quella sorvellata da Major. Cioè, praticamente, ci sono questi scarabei stercorari che hanno degli ornamenti, dei corni, e i maschi grossi con i corni difendono l'entrata, e uno potrebbe dire, vabbè, ma in questi coleotteri, se sono stati selezionati, come dire, i maschi, quelli con i corni più grossi, perché assicurano una certa sicurezza, no? Alla prova di tutto quanto, perché allora continuano a comparire anche i maschi, quelli senza corni più piccoli? Perché loro, essendo più piccoli, siccome questi maschi grossi sono tutti gasati e sono sempre rivolti verso l'entrata, perché così non entra nessuno, e questi si fanno una stata alternativa, e come dire, li sbucano dietro, fanno quello che devono fare e poi se ne vanno. Quindi in realtà, appunto, c'è anche chi, in questo senso, nessuno delle due è effettivamente una strategia migliore, se tutte e due comunque ci sono, ecco. Sì, 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 ma la possibilità di avere più strategie, non è limitata ovviamente al comportamento sessuale, cioè ci sono anche un sacco di altri comportamenti, ad esempio di predazione o di fuga o di cose di questo genere, che hanno più di una strategia. Tutte queste strategie, spesso e volentieri, sono bilanciate all'interno di una popolazione, cioè ci sono un certo numero di maschi che ha il comportamento tra virgolette da maschio, cioè quelli col corno grosso nel caso degli stercolari, roba di questo genere, un numero probabilmente inferiore di maschi che hanno un comportamento da stealth, come hai detto tu, cioè riescono ad entrare nel nido a copiarsi senza che il maschio dominante lo veda, ma non ci devono essere troppi maschi stealth, perché altrimenti la popolazione avrebbe un eccesso di maschi stealth e avrebbe animali più piccoli probabilmente, meno difendibili, che avrebbero meno possibilità di difendere le femmine. Quindi a questo punto la strategia del maschio stealth potrebbe tornare su. Quindi è ancora una volta una specie di compromesso tra due e tre strategie diverse che portano alla situazione attuale fondamentalmente. Poi alla fine ci si stabilizza intorno alla percentuale di un certo tipo. Sì, perché poi comunque certi comportamenti produttivi sono anche molto costosi, mi vengono in mente quei ragni che portano il dono nuzzello alla femmina per impedire di farsi mangiare, perché comunque consumare il partner è una cosa che non è che fa solo la vedova nera, forse è la più famosa, ma nei ragni succede quotidianamente in tantissime specie. Alcuni praticamente catturano un piccolo insetto, glielo imbozzano, glielo portano come dono così la femmina da quello capisce che è comunque un buon maschio perché ha speso energie per catturare una preda che poi non ha mangiato. Alcuni cosa fanno? Non ci catturano niente, cioè fanno il bozzolo e glielo danno voto. Perché comunque in quel caso il maschio cerca di risparmiare energie e arrivare comunque al suo scopo. Oppure per esempio anche le cimici dei letti che addirittura… Si sta parlando di comportamenti riprovevoli, si può dire. Esatto, esatto. Ed è una cosa interessante, adesso io non ho contezza dell'orario, ho usato anche la parola contezza, può andar bene. Io non ho contezza dell'orario, quindi non so a che punto siamo. Però ci siamo messi d'accordo alla fine di cominciare a parlare di comportamenti tra virgolette riprovevoli, non nel normale comportamento. Possiamo anche cominciare adesso, adesso non so che ore sono. Sì, diciamo che lì è comunque un esempio che farei perché da lì si capisce che il maschio le tenta tutte per spuggire al controllo della femmina, che vuole giustamente fare i propri interessi. Quello che si diceva prima, la femmina deve allocare una quantità di energia relativamente più bassa rispetto al maschio. Quindi deve scegliere qual è il maschio migliore. Ma ci sono alcuni maschi che cercano di superare questa scelta della femmina. Allora, è difficile usare una parola, ma praticamente violentandola fondamentalmente. Le cimici dei letti, ad esempio, come quello che si diceva prima, cercano di copiarsi con la femmina da qualunque parte fondamentalmente. Poi ci sono alcune specie in cui la femmina ha una zona un pochettino più, tra virgolette, debole ed elastica, per cui il maschio riesce ad accoppiarsi senza far troppo male alla femmina, perché ci potrebbe anche essere questo aspetto. Cioè il maschio si accoppia con la femmina, ma quasi la uccide. Non è proprio il massimo della vita. Eh no, infatti. Va bene sfuggire al controllo, ma lì fai un investimento, insomma, un po', come dire, alla fine ci perdi, no? Però, 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 dal punto di vista del maschio, quello che si diceva prima è che dal punto di vista del maschio, qualsiasi cosa va bene. Se anche io una femmina la uccido, ho tentato, capisci? Poi vado a trovarne altre, ne trovo 100 altre, se 80 mi vanno bene e 20 le uccido. Io sono riuscito ad accoppiarmi con 80 femmine, capito? Quindi c'è questa volontà da parte dei maschi di accoppiarsi a tutti i costi, diciamo così, a tutti i costi. E c'è questa volontà da parte delle femmine di scegliere il partner migliore a tutti i costi. Sono interessi, spesso e volentieri, in contrasto tra di loro. Ok? Esatto, esatto. Un altro esempio, sempre che ha a che fare con la violenza, e poi faccio una piccola, una piccola, diciamo, una digressione, ancora una volta un filo teorico, un filino filosofico, se mi è consentito. Certo. Allora, nelle anatre, specialmente nei Germani reali, è stato studiato il comportamento del maschio, il maschio Germano reale, le femmine praticamente le è violenta. Cioè, le salta addosso e cerca di accoppiarsi con loro in qualsiasi modo. Scusate, ma mi è passata davanti un'Ucupa, non sto scherzando. qui ce n'è un'altra che si è apposata. Le femmine praticamente le è violenta perché a volte succede che le affoga, perché tutto avviene in acqua ovviamente, trattandosi di anatre. Allora, perché cerca di accoppiarsi con il maggior numero possibile di femmine, come succede per la cimice. In più, a differenza di quello che pensano in molti, gli anatidi e altri uccelli, in particolare gli struzzi ad esempio, sono uccelli un filo più, se mi è consentito la parola, un filo più primitivi. Cioè, meno evoluti dal punto di vista della storia evolutiva, anche se ovviamente non esistono animali primitivi perché se sono qua hanno alle spalle i loro 3 miliardi e 8 di vita sulla terra. Comunque, insomma, dicevo l'anatra cerca di violentare la femmina perché è dotata di un pene, nonostante tutto quello che si dice che gli uccelli quando si accoppiano mettono accanto le cloache e basta, ma negli anatidi succede una cosa di questo genere. I maschi sono dotati di pene, quindi cercano di penetrare la femmina. Allora, che cosa accade? La vagina della femmina, a sua volta, ha una struttura molto complicata, ma molto molto complicata. Questo qui è il classico esempio di corsa agli armamenti. Se posso ancora una volta introdurre una parte teorica, mi spiace, ma mi capita spesso di dire... Ma è giusto, il discorso che si sta facendo è giusto, ci mancherebbe. Corsa agli armamenti, perché? Cosa succede? Il maschio, nel corso della storia della specie, il maschio ha cercato, appunto avendo il pene fatto in un certo modo, ha cercato di violentare le femmine. Le femmine hanno evoluto nel corso dei milioni di anni, dei centi anni, dei milioni di anni, hanno evoluto una vagina molto complicata, per cui per il maschio è difficile arrivare fino alla fecondazione vera e propria. La complicazione come sta? È che il pene del maschio è a forma di cavatappi, con un senso destrozzo. La vagina della femmina è a forma di cavatappi, con un senso sinistrosso. Allora, qualcuno mi correggerà, dice no, il maschio è una cosa, ma non me lo ricordo mai. Comunque, insomma, sono in un senso opposto l'uno rispetto all'altro. Non solo, ma la femmina ha due entrate verso la possibile fecondazione e può decidere se far andare il pene del maschio da una parte o dall'altra. Che cos'è la corsa agli armamenti? È proprio questo qua, cioè il fatto che si sviluppano in una specie, o in questo caso, in uno dei due generi della specie, si sviluppano dei caratteri, dei tratti, degli adattamenti, delle particolarità corporee anatomiche che vanno contro l'interesse dell'altro genere, in questo caso nella femmina che va contro l'interesse del maschio. Ma a sua volta il maschio cerca, nel giro dell'evoluzione, cerca di sviluppare adattamenti che vanno contro l'interesse della femmina. Quindi c'è questa corsa agli armamenti o, secondo alcuni, può anche essere chiamata la corsa della regina rossa, che viene da un personaggio di Luis Carroll, di Alice, all'interno di Alice attraverso lo specchio. Non parlo di questo perché altrimenti andiamo fino a sette e mezza perché il mio interesse va in questo senso. No, ma è chiarissimo, è chiarissimo. Cioè, è proprio il discorso che dicevi prima del conflitto tra due sessi. Cioè, ognuno cerca di far valere i propri interessi nei confronti dell'altro. Nel caso delle cimici dei letti, la femmina che può, diciamo, come dire, fare un controllo qualità chimico, tra virgolette, dello sperma del maschio attraverso il suo organo sessuale, il maschio che fa? Lo aggira. La penetra, diciamo, letteralmente dalla parte per sfuggire, insomma, sul fianco, per sfuggire al controllo chimico che la femmina avrebbe. E allora cosa fanno le cimici? Beh, nei punti in cui preferenzialmente, diciamo, il maschio la penetrerebbe di là, hanno sviluppato delle postazioni, tra virgolette, diciamo, funzionano vagamente da vagine accessorie per tentare di dare anche lì un controllo quando il maschio sfugge al controllo. E così via, così via. E' sempre questa lotta per riuscire a prevalere dal punto di vista dell'accoppiamento. Cioè, abbiamo cominciato dicendo che il sesso è un compromesso tra maschio e femmine, per semplificare, tra maschio e femmine, in modo da avere delle generazioni che, come si potrebbe dire, hanno caratteristiche o caratteri o geni che vanno bene a tutte e due. Ma in questo caso, non soltanto in questo caso, in tantissimi altri casi, il fatto è che uno dei due generi, maschio o femmina, cerca di prevalere, cerca di prevaricare sulla femmina, che a sua volta, sull'altro genere, che a sua volta cerca di difendersi. E si va avanti così nei milioni di anni. Allora, la parte, diciamo così, teorica che volevo dire è questa. Alcuni, chiamiamoli sociobiologi, ma più che altro erano divulgatori, hanno preso questi comportamenti dei maschi delle anatre o dei maschi delle cimici o dei maschi di non so che cosa, dicendo guardate che quel comportamento è un comportamento che può essere definito, che può essere diciamo simile, dal punto di vista dell'evoluzione, allo stupro del maschio nella nostra specie. Quindi, essendo un qualcosa che viene in natura, è giustificato. Allora, credo che non esista un comportamento, un comportamento, un'affermazione più stupida di quello che ho appena detto, perché è quello che confonde ciò che è con ciò che dovrebbe essere. Ciò che è, è appunto lo stupro da parte del maschio, la difesa da parte della femmina, eccetera, eccetera. Ciò che dovrebbe essere, nella nostra specie, non ha assolutamente nessuna attinenza con ciò che è in natura, perché altrimenti potremmo prendere un milione di altri esempi in cui i maschi sono molto più amorevoli, sono molto più, difendono la prole o cose di questo genere. Oppure potremmo anche prendere tanti altri esempi in cui i maschi addirittura ammazzano i piccoli. Nei leoni e negli entelli, che sono delle scimmie asiatiche, i leoni ammazzano forse anche delle manguste. I maschi ammazzano i piccoli. Cos'è? È giusto l'infanticidio? Direi proprio di no. Stiamo un po' esagerando da questo punto di vista, per fare una comparazione. Cioè ogni specie ha il suo tragitto evolutivo, ogni specie ha i suoi comportamenti evolutivi e in più la nostra specie ci ha da, non so, centomila anni forse, cinquantamila anni, non so quanto, quella cosa che si chiama, dicevo all'inizio, che si chiama cultura che frega tutti fondamentalmente e che quindi ogni specie non può essere presa come esempio per il nostro comportamento. Scusate la... No, no, riflessione giustissima vista il tema. Dall'altro appunto nella nostra specie e in realtà anche in qualcun'altra il sesso ha un'altra, come per così dire, aggiuntiva valenza che è oltre a quella della semplice riproduzione, che è diciamo il sesso a fine ricreativo, ovviamente in questo caso consenziente, chiaro. Però ecco, però nel senso c'è anche un'altra cosa molto interessante, ce l'hanno non moltissime specie oltre la nostra, però lì si ritorna la domanda all'inizio, a che cosa serve il sesso? Eh, anche lì dipende, in qualche specie non è semplicemente un mezzo per far arrivare più geni o quel che è, nel senso. C'è un'altra cosa. Sì, la specie più classica, vedo che sta calando il sole sulla mia, ma credono, spero non ci siano problemi dal punto di vista della visione. Comunque vai, l'importante è che dica qualcosa di vagamente intelligente. La specie che si cita di più in questo caso è il bonobo. Tra l'altro il bonobo, che è detto anche scimpanzee pigmeo, pampaninscus, è uno scimpanzee, è una specie molto simile allo scimpanzee, ma è un po' più piccola, leggermente più piccola, e ha una caratteristica fondamentale, tutta la vita, diciamo, dei gruppi di bonobo, si svolge in maniera relativamente pacifica, molto più pacifica di quanto non accada per i suoi cugini scimpanzee, molto più pacifica di quanto non accada per i suoi cugini uomini, ma si svolge attorno al sesso. C'è il sesso che poi dipende anche dalla definizione, perché se per sesso intendiamo scambio di geni, nella maggior parte dei casi lì non c'è, c'è soltanto il raggiungimento dell'orgasmo fondamentalmente. Ma con tutte le combinazioni possibili e immaginabili, provate una combinazione tra maschi e femmine, femmine e femmine, maschi e maschi, piccoli, grandi, eccetera, qualsiasi momento di stress potrebbe portare a un accoppiamento e quindi a un rilascio dello stress, a un abbassamento dello stress. Quello che negli scimpanzee avviene con aggressioni, morti, uccisioni, eccetera, nei bonobo avviene invece con accoppiamenti. La cosa più interessante, secondo me, in assoluto da riuscire a ragionare è perché sono due specie molto, molto, molto simili che si sono staccate dalla nostra poche centinaia di miliardi di anni fa, no, forse pochi milioni di anni fa, scusate, lei è un paleontologo, vero dottore, 5 milioni, 6 milioni mi sembra la divisione tra… però tra bonobo e scimpanzee lo split è successivo, ovviamente. Ci sono dei comportamenti così diversi che fanno pensare che le dinamiche evolutive tra scimpanzee e bonobo siano state assolutamente radicalmente diverse e abbiano portato poi a società che hanno comportamenti molto, molto, molto differenti. Ancora una volta, non facciamo la comparazione con l'uomo perché è una specie che è un po' particolare da questo punto di vista. Comunque, per tornare a quello che dicevi prima, cioè il senso ricreativo, credo ci siano molte altre specie, molte no, ma insomma alcune altre specie che hanno questi atteggiamenti. So di, ad esempio, pipistrelli, cioè volpi volanti, alcuni delfini, alcuni cetacei hanno questi comportamenti con accoppiamenti che si svolgono praticamente cercando di utilizzare qualsiasi orifizio possibile, immaginabile. È molto probabile che il tutto sia una specie, appunto non sia tanto una questione di sesso vero e proprio, come quello che avevamo definito prima, ma un raggiungimento dell'orgasmo, cioè di un, come si potrebbe dire, di un comportamento che ha come conseguenza uno scattelamento dell'endorfine e quindi anche uno stimolo della parte del cervello che porta al, diciamo, a quello che si chiama il nucleo del piacere del cervello. Quindi alcuni animali si sono resi conto che facendo quello hanno il nucleo del piacere che viene stimolato. E loro lo fanno, dico, non vedo perché no. Encore una volta non facciamo comparazione con gli uomini. Sì, non è un caso che siano specie di animali che o sono spiccatamente sociali o vivono comunque, hai citato il caso dei pipistrelli, a densità molto elevate, quindi stanno attaccati in tanti individui. Non è un caso, diciamo, che comunque subentri un certo stress. Perché comunque sì, va bene che nella nostra idea romantica il branco è bello perché tutti almeno vengano aiutati, eccetera. Però in realtà anche quello è una fonte di stress. Lo stare vicini continuamente ai propri simili, mangiarci insieme, anche quello è una fonte di stress. Anche perché in molte specie ci sono delle gerarchie all'interno del gruppo e a parte, ma no, anche i dominanti, diciamo così. Dai dominanti all'ultimo del gruppo ci sono fonti di stress di vario tipo. Il dominante perché è un dominante che deve stare attento, e deve controllare quello che accade intorno a lui. Il secondo perché deve stare attento al dominante e vedere quello che accadono gli altri. L'ultimo perché le prende da tutti. Quindi c'è tutta una serie di fonti di stress che possono, in alcuni casi, essere rilasciate, diciamo, in inglese si chiama relief o stress. Possono essere abbassate con comportamenti sessuali con il raggiungimento dell'orcasmo. Sì, no, assolutamente. Il caso Ebonoba è il caso più famoso, ma in realtà non è l'unico, insomma. Ed è interessante perché poi a quel punto si slega il sesso dalla sua sola importanza a livello riproduttivo e gli si dà anche un'altra connotazione di tipo, come dire, socio-biologico. Socio-biologico, sì. Quindi è un comportamento sociale, come tanti altri, come l'aggressione, come le sberle. Cioè, gli scimpanzei, ad esempio, come dicevo prima, cercano di risolvere tutto picchiandosi fondamentalmente e ammazzandosi volentieri. Vi so anche ultimamente che gli scimpanzei, quando possono ammazzare qualcuno, non si tirano mai indietro. Ecco, i Bonovo fanno altro. Esatto. Non so, a voi la scelta, che tipo di scelta volete. Sì, no, infatti, infatti. È interessante che comunque anche nella nostra specie il sesso chiaramente non è solo relegato, diciamo, alla riproduzione, ma in realtà, se vogliamo, quello potrebbe anche essere un modo, anche quello però, per valutare, per così dire, la qualità di un partner. Perché comunque un partner con il quale hai una maggiore affinità a livello sessuale, con cui magari ti trovi bene, eccetera, magari capisci anche da quello che comunque è un partner su cui forse vale la pena investire. Non lo so. Allora, stiamo entrando in argomenti e in temi che mi sono assolutamente strani. Sì, anch'io. Parlo di animali e quando comincio a parlare di psicologia umana faccio solo dei grandi disastri, quindi non vorrei entrare in queste questioni. Però potrebbe essere un'idea anche questa. Un'idea molto sociobiologica, ma potrebbe essere un'idea anche questa. Sì, sì, no, appunto, potrebbe, in quanto animali molto sociali, uno potrebbe chiedersi, ma perché proprio negli animali molto sociali arriva il sesso anche come fonte di piacere? Insomma, un po' chiacchiere, vi lasciamo qua, come dire, in solo peso, perché sono molto affascinanti, appunto, e ci fa piacere se poi da quello che viene detto durante questi talk, che poi ci ha seguito anche la, come dire, la curiosità di andarsi poi a recuperare qualcosa di libri sull'argomento, comunque, sulla biologia riproduttiva, ce ne sono tanti a livello di saggisti, anche tradotto in italiano, quindi, insomma, quello non... Per esempio, se ne vuoi consigliare qualcuno, Marco... No, 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 io ne cercavo in questi giorni, ma a parte uno che si chiama The Hunt and the Peacock, credo che sia stato, oppure quello che si chiama La Regina Rossa. Ecco, La Regina Rossa potrebbe essere interessante, perché spiega anche il concetto di inseguimento, tra generi diversi. Poi ce n'è uno di cui non ricordo il titolo, ho cercato disperatamente in questi giorni, perché mi sono un filo preparato, ho cercato disperatamente di ricordarmi, perché mi ricordo che l'ho letto e mi è piaciuto abbastanza, in cui diceva che la tesi era che lo sviluppo del cervello umano è dovuto anche alla competizione sessuale, la competizione tra maschi e termine e quindi alla fine si ha un cervello più sviluppato, più pronto agli scambi sociali. Però, ripeto, non mi ricordo il titolo, mi spiace tantissimo, ma non me lo ricordo. Ah beh, se viene fuori ve lo faremo sapere. Ok, poi io non ho seguito la chat, magari c'è un domande o... No, sì, no, le ho fatte passare io quando parlavi e te le ho un pochino rimandate. Io per quanto riguarda i libri vi consiglio una, secondo me molto bello, anche sotto questo punto di vista, che si chiama Organi Sessuali, Evoluzione e Biodiversità, di Menno Schweitzer, dove anche la roba delle scimici lì la spiega benissimo. Sì, 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 sì. Vero, giusto, 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 c'è anche questo. Comunque ce ne sono molti, cioè anche tradotti in italiano ce ne sono alcuni interessanti, sì, davvero. Va buono. Marco, grazie mille per davvero per la chiacchieratuna che abbiamo fatto, io spero che... io sono divertito, abbiamo detto sacchi di cose interessanti, spero che comunque siano interessate anche a chi ci ha seguito, ma oi boh, se sono arrivati in fondo è certo che l'hanno trovato interessante, insomma. Spero di non essere stato noioso, spero solo di non essere stato noioso, perché è un argomento estremamente affascinante, però se si comincia a entrare nelle... gli inglesi li chiamano i nooks and crannies, cioè nelle particolarità, poi si va a finire nelle teorie, nei litigi, qui e là, che vanno bene per i biologi, magari per gli astrofisici no, dico astrofisico apposta, quindi sappiamo... Esatto, no, no, tranquillo, chissà, sa. Comunque, no, penso che sia stata molto interessante, quindi ancora una volta ti ringrazio Marco per tutto quello che ci hai raccontato, ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno seguito durante questo appuntamento col Prefestival di Bergamo Scienza. Vi ricordo che la prossima settimana non ci sarà, come di consueto, il classico appuntamento del giovedì alle 18.30 per il Prefestival, ma ci sarà il 26, quindi il 26 agosto, sempre alle 18.30, presumo, l'orario è sempre quello, ci sarà un intervento su Rita Levi e Montalcini, dove ci saranno Marco Piccolino e Serena Fabbrini. Quindi vi rimando ovviamente al talk del 26, prossima settimana invece vi riposate, ma ve la do di feria. Settimana di ferragosta, esatto. Esatto, esatto. Mentre invece il 26, mi raccomando, ce l'ho te 30 qua. Quindi niente, ringrazio ovviamente alla regia che da eminenza occulta ci ha assistito da dietro le quinte, ringrazio ancora una volta a chi ci ha seguito e ringrazio ovviamente Marco per l'accompagnamento. Grazie a voi, scusate la location che sta diventando buia, ma questo è, ho dovuto affidarmi ai dati perché ho un po' di problemi logistici. Grazie ancora di tutto, mi sono divertito da matti. Bellissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.